Ci siamo? Parti! Dal gruppo è Steldrum che va immediatamente a condurre, seguito proprio da Balbaran. Al terzo si mette Fadi Viri su Sterry Baby, poi Drugolo, che avvicino a Vigno. Seguono Tony Spower, allo steccato avanza Bye Bye Norma, poi Coperta di Lana. Colorado Springs, Mister Budesember, e a chiudere Cima Minerva. La prima curva che vede Steldrum, saldo battistrada a ritmo assolutamente valido. Al secondo posto, Balbaran, che nel frattempo ha parcheggiato in scia. Al terzo viaggia Fadi Viri con il cap rosso al fianco del quale galoppa Avigno con la giubba blu scura e verde. Poi ancora Sterry Baby con il cap verde e le maniche bianche. Bye Bye Norma in giubba verde al suo interno, avendo in scia Coperta di Lana. All'altra con la giubba gialla e il cap rosso, all'estero del quale c'è Tony Spower in giubba scacchi. Davanti a Tony Spower c'è Drugolo in giubba bianca con il cap blu scuro. Poi ancora Colorado Springs in giallo e nello. Al suo interno con i parrocchi, Mister Budesember, a chiudere il gruppo Cima Minerva con la giubba rosa e blu. Queste le posizioni, un gruppo piuttosto allungato sotto la spinta di Steldrum che non prende i prigionieri. È dato in testa fino al primo metro e continua in maniera le danze e in maniera sicuramente selettiva. Barbaran che non ne perde la scia rimanendo secondo. Al terzo posto Avigno, al quarto Fadi Viri e poi ancora Steldrum in quinta posizione. In quest'ordine al completamento della rete di fronte. Sulla piegata uno schema di corse che chiaramente non conosce variazioni. Sempre in testa Steldrum. Al secondo Barbaran, poi Avigno e Fadi Viri, Sterry Baby e Baiba Enorma. Quest'ultima è sesta per via interna. Drugolo, Tony Spower, coperta di lana. Mister Budesember, Colorado Springs e Cima Minerva. Siente in retta d'arrivo, sempre Steldrum che passa al paletto dei 600 provando a ripartire. Al secondo Barbaran, poi Fadi Viri per via interna. Al largo Avigno che prova a rimanere in quota. Baiba Enorma e Sterry Baby. Mister Budesember che prova dalle retrovie. Per via interna invece coperta di lana. Al 400 Barbaran insiste ancora all'attacco di Steldrum. Fadi Viri in terza corsia. Con questo terzetto bene avanti il resto del gruppo. Barbaran che è l'ultimo farlo che è passato in vantaggio. Su Steldrum che prova a ritornare. Poi ancora Fadi Viri vicino a Mister Budesember con grandi folate. Barbaran da solo al comando. Su Fadi Viri, Mister Budesember e Steldrum. Barbaran che arriva fino in fondo. Al secondo Fadi Viri vicini per il terzo. Steldrum all'interno e Mister Budesember all'argo. Barbaran, quarto successo per lui con in sella Lerio Vargio che colpisce per la scuderia Brums. Ai colore il team Bazzano evitabile al training. Al secondo Fadi Viri molto stretta per il terzo. Tra Steldrum all'interno e a largo Mister Budesember.